Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove, siamo nella sede dell'Associazione Nazionale dell'Aeronautica, sezione di Caserta, Arma Aeronautica, sezione di Caserta, con il generale Rubini. Generale, una prima domanda, come è nata l'idea di formare una fanfare? Perché noi crediamo molto dei ragazzi, dei giovani, siccome l'educazione per noi è un momento fondamentale della loro elevazione culturale, della loro crescita, del loro sviluppo e della loro introduzione e proiezione nella società, crediamo che la musica sia uno dei principali più importanti per raggiungere questo scopo. E generale, un'altra domanda che le faccio, quindi la musica è un obiettivo molto importante a livello educativo e può essere anche importante per i giugni? Sicuramente, considerate che, a parte il latino che ormai non si studia più, ci sono tante lingue diverse nel mondo. Avevano creato l'Esperando per cercare di parlare tutti la stessa lingua e l'Esperando non è andato bene perché ha lasciato il tempo che trovava. Che cosa è rimasta alla musica? Come linguaggio universale. Le note musicali sono conosciute in tutto il mondo, la musica è la stessa in tutto il mondo e almeno questo che può essere un fattore comune per tutti sicuramente contribuirà a come... D'altra parte vediamo delle bande internazionali, ad esempio quella dell'Europa, dove ci sono giovani di tante nazioni, accomunati da che cosa? Dallo stesso sparticolo. Generale, un'altra domanda. Come mai la scelta del gran concerto bandistico città di Casagiove per l'evento di sabato? E ci parli anche dell'evento di sabato. Devo fare una premessa. Io non conosco la musica, non me l'hanno fatta studiare, non l'ho studiata e quindi sono, da questo punto di vista, ho poca cultura, però la musica mi piace per le considerazioni che ha fatto prima. Perché il complesso bandistico città di Casagiove? Perché ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare bene, ne ho sentito parlare in positivo, soprattutto quando ho visto la conclusione dell'anno accademico, quando si esibiscono i ragazzi che loro hanno formato con tanta passione, tanta attenzione e tanta dedizione. Vedere questi ragazzi che suonano così bene questi strumenti perché hanno capito che la musica è un qualcosa di sublime, mi ha convinto, e soprattutto vedere come lo fanno, con quanta passione anche loro determinazione, dedizione, amore che ci mettono, mi ha convinto che forse era una buona cosa. Quindi, generale, come abbiamo detto prima, musica è elemento fondamentale, arte, quindi fondamentale per i giovani. La scelta del gran concerto bandistico, perché loro sono bravi a educare i ragazzi all'insegnamento della musica, e un'ultima cosa ai nostri lettori, invitiamoli all'evento di sonno. Sicuramente, sarà una bella cosa, è partita due anni fa, lo dirò la sera in cui si verificherà l'evento, che per me è un sogno che sia vera, un sogno che è durato due anni, comincio a vedere che sta concretizzandosi, e sarà una cosa sicuramente bella perché è all'insegna della solidarietà, all'insegna della gioia, all'insegna dell'amore, all'insegna della fratellata. Se vengono tutti, tra virgolette, suoneremo la stessa musica. Generale, allora faccia un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi di Casagiove. Cari lettori e cari lettrici di Vivi di Casagiove, siete nel nostro cuore, perché Casagiove è vicino a noi, ma la maggior parte dei nostri soci, anzi la buona parte dei nostri soci è di Casagiove, quindi un pezzo di Casagiove dentro questa nostra associazione, questa nostra associazione è associazione di tutti, è la casa di tutti. Quindi l'invito, quando vorranno venire a incontrarci, a trovarci e a condividere con noi i momenti belli della vita. Salutiamo il generale e lo ringraziamo. Grazie.